Poco meno di due settimane fa l'esercito a zero aveva annunciato la liberazione della città strategica di Jabrail dall'occupazione armena. Il cessato il fuoco, scattato successivamente il 10 ottobre scorso, non ha retto. Siamo a Jabrail, abbiamo fatto molta strada, siamo arrivati poco prima dell'alba. Lungo il percorso abbiamo visto molti carri armati, militari, armi. L'Azerbaijan si sta sicuramente preparando per qualcosa. Il colonnello Abilov, a capo dell'unità di Jabrail, dichiara che la guerra continua. Certo, ogni battaglia è dura, dice, ci sono perdite, ma i soldati azerbaijani, gli ufficiali che hanno avuto ragione del nemico, sognavano di riprendersi la loro patria. Nessuno può ostacolare l'esercito azerbaijano. I nostri soldati continueranno a combattere finché non riavremo le nostre terre. Il bilancio delle vittime cresce. Almeno 12 persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite. Dopo il lancio di un missile che ha colpito Gangio, la seconda città dell'Azerbaijan. Dietro di me c'è una fonte d'acqua naturale chiamata sorgente dell'amicizia. Come potete vedere, di amicizia non è rimasta molta.